Da lunedì scorso la città di Pozzuoli è un nuovo sindaco, Vincenzo Figliolia, che stravince le elezioni raggiungendo risultati inaspettati. Il neoprimo cittadino ha condotto una campagna elettorale che già dagli slogan ne dava per scontato quasi la vittoria. Adesso si recitavano i 6x3 che hanno arredato le strade puteolane nell'ultimo mese, preannunciando il successo di Figliolia, già candidato alle scorse amministrative del 2011, che ritorna a governare la città a distanza di 7 anni. Lo stesso ammette però di non essersi affatto aspettato questi numeri clamorosi. Una vittoria eclatante tento della coalizione di centrosinistra, allargata all'Udc, che si attesta secondo partito della città, quanto dello stesso sindaco Figliolia, che conquista il 67,8% delle preferenze, circa 3 punti percentuali in meno rispetto alle liste che lo appoggiavano, a fronte di un 17,4% del suo principale competitor, appoggiato dalla coalizione di centrodestra, Filippo Monaco. Netta sconfitta per la coalizione di centrodestra, dunque, composta da Fliud, Euro e Pdl. Crolla quest'ultimo partito, che appena un anno fa aveva portato all'elezione di Agostino Magliulo e che perde il 20% degli elettori, sfiduciati probabilmente dalle ultime due amministrazioni puteolane e fallimentari di centrodestra, mandate a casa entrambe prematuramente. Una vittoria schiacciante quindi per la coalizione di centrosinistra, composta dai DB, SEL, UDC, Pd e lista civica Benecomune, che tradotte in numeri equivale a 20 consiglieri di maggioranza contro i 5 eletti all'opposizione. Dei 19 consiglieri eletti più il sindaco, probabilmente la maggioranza dovrà però fare a meno di Paolo Tozzi, eletto nella lista dei Verdi e osteggiato sin dal primo momento dal candidato Figliolia, tanto da provocare la rottura tra la coalizione e il partito del sole che ride, escluso dalla campagna elettorale. Un distacco notevole dal candidato di centrosinistra si registra anche per gli altri tre candidati alla carica di sindaco. Tito Fenocchio, che con la lista civica uniti per la libertà riesce ad entrare in consiglio comunale con il 4,7% di preferenze. A differenza di Emanuele Zanni, candidato della Federazione della Sinistra, al quale non sono bastati i 1869 voti racimolati. E dal candidato Daniele Thomas Alessi, del Movimento 5 Stelle, che pur raggiungendo il 5,57%, non riesce a conquistare il seggio in consiglio comunale.